Simone Colardo, portiere dello Spinete, si è conclusa questa seconda giornata del vostro girone di Coppa Italia regionale. Avete affrontato sicuramente due squadre di categoria superiore, quindi non c'era sicuramente l'assillo di risultato, ma quello che interessava credo era la prestazione, credo insomma una buona prova questa contro il Castel di San Groceppa, arrivata questa sconfitta di misura. Sì, abbiamo incontrato due squadre ben organizzate, penso che diranno la loro nel campionato di eccellenza, però comunque volevamo dire la nostra in queste due partite, comunque l'abbiamo fatta, abbiamo fatto due buone prestazioni a mio avviso. La Rosa grossomodo è rimasta la stessa, insomma pochi cambiamenti rispetto alla passata stagione, e poi qualche elemento al momento fuori rosa, chi per infortunio, chi sta valutando se proseguire questo percorso con questa società? Sì, io penso che abbiamo una Rosa veramente forte, non mi nascondo, la squadra secondo me è forte, possiamo dire la nostra e dobbiamo dire la nostra in questo campionato secondo me, perché abbiamo i ragazzi Musta, Diallo, che comunque sono giocatori forti, giocatori di categoria, anzi sono pure sprecati per questa categoria secondo me, quindi penso che dobbiamo dire la nostra. Sì, un altro anno insomma con questi colori per te, quindi di smettere, abbiamo capito che non vuoi saperne, ma perché trovi giustamente le motivazioni giuste e poi un gruppo che ti fa stare bene? Ci provo in tutti i modi a smettere, ma non ci riesco proprio, eh sì, vabbè, Spinete sono anni che sto qua, quindi è pure il gruppo e l'ambiente di Spinete che mi dà gli stimoli a continuare.